19 febbraio, l'1.33, i vigili urbani se ne sono andati e questa è la situazione del mercato. Io penso che si possa chiedere ufficialmente a chi ha organizzato il servizio il rimborso, perché è un servizio che non serve in pratica. Assurdo, assurdo spendere i soldi della collettività in questa maniera, semplicemente assurdo, perché come non aver fatto niente, è stata tenuta qui una macchina ferma tutta la mattinata con due persone, dal costo che non so quantificare, ma che comunque ci possiamo infermare, all'1.33 vanno via e questa è la situazione del mercato ortofruttico e lo diviale della primavera. È una vergogna, caro comandante, io non lo so come fa a giustificare un servizio messo su a questo punto con i piedi e non rispettato. Mi dispiace, mi dispiace perché i primi giorni aveva dato segni di una risposta autosormato soddisfacente e invece eccola qua, sotto gli occhi di tutti. Una vergogna.